La provincia di Lecce è al fianco del Comune di Monteroni, dell'Associazione Helios, della Prologo e degli Allabua per questa bellissima iniziativa del 10 dove i tamburelli diventeranno protagonisti insieme alla comunità locale una iniziativa molto interessante che non poteva chiavere anche il sostegno della provincia di Lecce. L'amministrazione comunale di Monteroni sicuramente non poteva che patrocinare e contribuire alla realizzazione di questo evento la notte dei tamburelli perché è proprio tra gli indirizzi dell'amministrazione portare avanti le tradizioni, Monteroni vanta questa tradizione. L'associazione Helios con la forza di tutti i nostri soci tutto l'anno si occupa di allietare i pomeriggi di grandi e piccini con corsi musicali, di danza, di ginnastica e quest'anno ha voluto concludere l'anno dei corsi soprattutto musicali con questo grande evento. Vi aspettiamo insieme ai Allabua per la grande festa con la Helios e con la grande comunità di Monteroni.